Musica Conferenza stampa per i gare di Mr. De Cani in vista della partita contro il Torino che si svolgerà domenica ore 15, Stadio Olympico Siamo in una situazione sempre da valutare qui sono i miei uomini c'è chi magari ha un proprio uomo ha avuto un compagno di squadra che ha fatto tutto bene che ha diventato garanzia ci sono stati nazionali può essere il Stato, il Stato ci sono altri ragazzi che hanno lavorato qui domani in Porta Santana non è così semplice dire che l'autore è di fare così sono tutte riflessioni che l'autore deve fare quindi ogni situazione è diversa da l'una dall'altra perché l'autore è rimpresa da l'autore non è stato veramente registrato ma allo stesso tempo non posso dire delle cose profondali che potrebbero essere smentite da una mia riflessione più attenta una sigla che probabilmente non sarebbe dedicato probabilmente non lo so anche lui non lo so perché magari magari sono un po' al 100% e quindi se non ho la certezza assoluta anche nel dialogo che poi vado da bene con i parciatori per conoscere meglio e per non ho altre condizioni non posso a un po' al 100% però è chiaramente un po' il fatto che io ricordo in una partita magari si vede che è nata anche da Fattori in generale la situazione di l'autore per me è molto più importante l'accoggiamento della continuità passando dentro la squadra di non esaltarsi dopo la vittoria la prima volta che sono stati chiedi anche dopo le sconfitte le prime due siamo andati in campo a cercare comunque di far sì che fosse in campo con la media e con il modo di aminarsi perché deve essere risposto all'assolutamente per me la sconfitta deve essere accettata ma da anche ai calciatori una maggiore tranquillità una maggiore una maggiore una maggiore deve essere una prova che si può tenere più più da non giurire con un concetto quindi per l'inizio bisogna sempre usare solo le armi che sono esenzate soprattutto anche un punto più ampio delle possibilità di scelte ma da anche ai calciatori una maggiore tranquillità una maggiore sicurezza perché più persone possono concorrere al raggiungimento di un obiettivo quindi anche dal punto soprattutto in vista psicologico la presenza in campo o in panchina di una squadra al completo da maggiori sicurezza già questo è un risultato più poi importante poi come vi ho detto è la prima settimana se vogliamo non è nemmeno una settimana al completo perché c'è stato qualcuno che si è negato nel collettivo qualcuno che si è negato il giovedì qualcuno che è andato con le nazionali quindi abbiamo lavorato insieme pochi giorni pochi giorni però già questo comunque per me è un aspetto un po' sicuro io ho delle idee in testa poi spesso magari quando a vecchio della gara mi costringe a pensare e a fare delle cose che possono anche sembrare in logiche o non in logiche quindi strane particolari ma che al momento hanno una logica una logica del momento perché non sono un integratista e cerco anche di guardare al momento la partita poi anche le condizioni della squadra la possibilità di calciatori a disposizione queste le parole di mister De Canio in vista della partita contro il Torino che si svolgerà quindi domenica ore 15 in stadio olimpico finalmente recuperati gli infortunati come Barrientos poi e Gino Peruzzi Gino Peruzzi che troverà probabilmente sui primi minuti con la maglia d'ossazzurra il Torino viene da una brutta sconfitta e da un pareggio quasi sperato contro la caporista contro la Roma per il Catania fare i tre punti sarà fondamentale in questa gara il Torino il Torino finalmente deve trovare deve cercare di fare punti per smuovere un po' questa classifica e avere ambizioni un po' più ampia per il Catania però questa partita sarà veramente decisiva è un po' più ampia è un po' più ampia